La cura è una performance artistica partecipativa in cui ci si riappropria della condizione di essere umano perché cosa succede quando ti ammali di una cosa grave come il cancro? Succede che l'essere umano in qualche modo finisce rimpiazzato dal paziente poi oltretutto la medicina in qualche modo separa dal resto del mondo succede per esempio con l'ospedale in cui si è fisicamente separati dal resto della società ma succede anche nella vita di tutti i giorni con il linguaggio quindi come parlano le persone, come ci si relaziona con le persone e questo in realtà è un po' problematico perché proprio come è ingenuo pensare che ci si ammala da soli quando mi ammalo io si ammalano in un certo senso anche tutti i miei parenti ed amici si ammalano i miei studenti, si ammalano perché cambia loro la vita allo stesso modo è problematico pensare che ci si possa curare da soli quindi la cura come modo di rimettere la malattia in mezzo alla società e di scoprire nuove forme di collaborazione e partecipazione Non solo la malattia, questo è un approccio che possiamo applicare a tanti altri temi, problemi del mondo ed è proprio questo il motivo per cui ci siamo convinti a scrivere questo libro e stiamo iniziando a sperimentare insieme a persone differenti dagli anziani, proprio da pochi giorni siamo stati a una università per la terza età quindi gli studenti della terza età agli studenti delle scuole superiori e a tante altre persone con cui stiamo cercando di capire come questo approccio può essere utilizzato e come appropriarsene in altri ambiti quindi non solo cancro, non solo malattia ma possibilmente tutto quello che abbiamo intorno Allora, l'ecosistema dell'innovazione in Italia per fortuna stanno succedendo tantissime cose e questo ci fa un gran piacere se proprio dovessi trovare una cosa da mettere in dubbio quindi da pure sotto forma di problema perché farsi le domande fa sempre bene se dovessi dire è che manca un po' lo spirito di trasgressione la possibilità della trasgressione quindi ci troviamo davanti tante cose che succedono ma queste cose sono, diciamo, il più delle volte sono molto codificate assomigliano molto le une alle altre e questo è un problema questo è un problema perché io cito sempre una ricercatrice che si chiama Elisabeth Grotz lei afferma nella sua teoria dell'excess space quindi lo spazio dell'eccesso afferma che nel problematico e quindi nel trasgressivo c'è l'opportunità, c'è la possibilità c'è l'opportunità, insomma, a tutti gli effetti quindi e ad ora non ci sono molti, tra virgolette, referenti della trasgressione quindi potremmo lavorare se volessimo cambiare un po' le cose e renderle ancora migliori potremmo ragionare su come, tra virgolette, abilitare la trasgressione quindi abilitare i modi di trasgredire perché i trasgressori non oltrepassano i limiti ma li riconoscono e li spostano ed è qualcosa che dovremmo fare non solo in Italia ma guardandoci intorno molti, tutti ci dovremmo interrogare su questo aspetto su cui sono completamente d'accordo con Salvatore per cui non solo per l'Italia Grazie 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 Grazie